Ciao ragazzi, sono Stefano Castiello e benvenuti in un nuovo video. Ormai sono 3-4 giorni che non vi parlo di Shiba Inu. Nell'ultimo video vi parlai di notizie negative e infatti così è stato, il prezzo sta scendendo molto velocemente. In questo video voglio parlarvi di altre notizie purtroppo negative e soprattutto anche di alcune notizie positive che ci fanno ben sperare. Quindi come al solito restate con me fino alla fine per non perdervi nulla perché ho anticipato qualche pump, qualche giorno fa abbiamo avuto un più 20% in poche ore e vi spiegai il motivo per cui stava per accadere, infatti così è stato. E l'altro giorno vi parlai di notizie negative, infatti così è stato, il prezzo sta scendendo. Vi anticipo solo che sono stati spostati 600 milioni di dollari in SHIB che non sono per niente pochi, però in 8 wallet diversi. E come al solito vi spiego il motivo e perché potrebbe essere una notizia super negativa e cosa vogliono cercare di fare con questi spostamenti in 8 wallet diversi. Soprattutto ci sono anche notizie positive da parte di due exchange molto famosi, vi dico solo Binance e tantissime altre cose inerenti al Coinburn eccetera. Quindi adesso ragazzi davvero basta parlare, iniziamo subito. Però prima di iniziare come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace per supportarmi con questo video perché sto cercando di pubblicare un video al giorno e cercare queste notizie, verificare che siano vere e soprattutto anche tradurle in italiano correttamente. È molto molto complicato per me, sto cercando di fare il massimo ma il supporto da parte vostra è davvero fondamentale. Quindi lasciare un mi piace è gratis, non ci vuole nulla, un commento e soprattutto per guardare altri video, aggiornamento, video su crypto gemme in generale, iscrivetevi al mio canale attivando anche la campanella qui in basso per ricevere le notifiche dei miei video. Questo è davvero molto molto importante. Ok detto questo davvero basta, voglio subito iniziare perché è arrivato il momento di parlare di Shiba Inu. Ogni volta sono molto contento di portarvi queste notizie perché so che vi interessano tantissimo, soprattutto quando ci sono notizie così importanti. Iniziamo subito e partiamo soprattutto dal prezzo di Shiba Inu su CoinMarketCap. Vediamo ragazzi un meno 6% nelle ultime 24 ore, però se diamo un'occhiata al grafico dal 27 ottobre il prezzo sta scendendo in maniera davvero brusca e potrebbe essere un buon momento per entrare in Shiba Inu per acquistare. Ovviamente ragazzi non sono consigli finanziari, a breve potremmo vedere anche un bel pump verso l'alto soprattutto perché se effettivamente la blockchain di Shiba Inu cioè Shibarium verrà creata. Ne vedremo delle belle perché già vi ho spiegato che per adesso i costi di transazione per quanto riguarda Shiba Inu sono alti poiché siamo sulla rete di Ethereum cioè RC20 e per questo ci sono costi davvero altissimi e passare a un layer 2 cioè a Shibarium sarebbe fondamentale per pagare costi di transazione davvero bassi oppure sarebbe anche positivo vedere il passaggio di Ethereum a Ethereum 2.0. Però adesso continuiamo perché ci sono notizie davvero importanti che voglio mostrarvi. Sempre tramite Reddit ho scoperto questa notizia. Qui è stato fatto uno screen al post su Twitter di WatcherGuru che è una pagina che pubblica sempre i movimenti delle whale. In questo caso è stato specificato questo movimento da parte di questa balena che ha spostato 600 milioni di dollari in Shib. Però più tardi sono arrivate altre notizie al riguardo e questo ragazzo ha pubblicato questo post dicendo che sono stati spostati questi 600 milioni di Shib da un wallet ad altri 8 wallet. Questa è una notizia molto negativa adesso vi dico il motivo per cui penso questo. Questa persona o più persone che possiedono questi wallet da diversi milioni di Shib potrebbero scatenare un bel dump del prezzo. Potrebbero vendere qualche milione di Shib, le persone vedono che il prezzo sta calando ovviamente, tutti vendono, si scatena il panico e loro sono più contenti perché possono rientrare acquistando a un prezzo basso e poi come al solito rivendere più alto. Ovviamente queste non sono solo supposizioni mie perché anche altri YouTuber ne hanno parlato, ho letto altri articoli. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate perché sono molto molto curioso. Pensate che ci possa essere una manipolazione del prezzo in questo modo con questa divisione in 8 wallet, chissà. Comunque 600 milioni in Shib di dollari sono tantissimi, 600 milioni ragazzi. Perciò questa secondo me è un'altra notizia negativa. Però adesso detta la notizia negativa passiamo a quelle positive per relegrarvi un poco. Tramite Travala.com ripeto che come booking c'è possibilità di pagare anche con le cripto. E ha fatto questo post su Twitter che ha avuto più di 100 mila voti per adesso in cui viene chiesto alle persone quale dovrebbe essere il prossimo token che viene utilizzato come metodo di pagamento. Al momento dello screen Shiba Inu si trovava al 25% insieme a Flochi Inu e al primo posto c'era Cake con 33%. Mi invito a trovare Travala.com su Twitter e votare ragazzi perché più Shib viene utilizzato come metodo di pagamento più è positivo per la pubblicità che viene fatta. Già è positivo che è stato preso in considerazione questo post però ripeto se vincesse sarebbe davvero ottimo. Andiamo avanti perché voglio parlarvi del post da parte di Binance. Binance USA ha tweetato che adesso si potrà acquistare direttamente Shiba Inu in USD su Buy Crypto Portal che è un portale diciamo di Binance che permette facilmente di acquistare e vendere criptovalute. Ed è stato aggiunto anche Shib che può essere acquistato e comprato con USD. Questo ovviamente in America però è molto importante che una pagina come Binance USA che ha moltissimi followers 200.000 pubblichi un annuncio del genere inerente a Shiba Inu. E questo annuncio è stato pubblicato il 20 novembre. Poi c'è stato un altro tweet da parte di un altro exchange molto molto famoso e importante che è Crypto.com. In questo post viene specificato che ora Crypto.com supporta depositi e prelevi di Shiba e Doge tramite Kronos. Quindi tanta tanta roba ragazzi. Molto molto positivo. Ci sono notizie positive davvero oltre a notizie negative è sempre così. L'altra volta ripeto anticipammo quel bel pump del 20% grazie al fatto che AMC Theaters che per chi non lo sapesse è un'azienda americana molto famosa che ha deciso di accettare i pagamenti in Shib quando si va al cinema. Cioè noi andando al cinema pagheremo i biglietti popcorn tramite Shib. Tra 3-4 mesi questo avverrà però è stato comunicato ufficialmente che questa cosa sarà fatta. Quindi notizia positiva il prezzo è salito però purtroppo ragazzi il prezzo per adesso continua a scendere e potrebbe essere un buon momento per acquistare. Ovviamente non sono consigli finanziari. Un'altra notizia molto importante da parte di un'azienda che permette di pagare in criptovalute è Dinao Payments che ha pubblicato quest'articolo in cui supporta Shiba Inu spiegando anche il motivo per cui supporta questo meme token. In pratica questa azienda è stata una delle prime ad implementare i pagamenti in Shib per i suoi commercianti e questo ha scatenato tantissima hype intorno a questa azienda. Quindi tutte le aziende che decidono di implementare Shib come metodo di pagamento ricevono molto supporto dai fan di Shiba Inu e quindi questa è una pubblicità positiva sia per l'azienda che per Shiba Inu. Soprattutto se sono aziende molto molto conosciute abbiamo visto McDonald's che ha risposto a quel tweet abbiamo visto ora MC che effettivamente ha accettato i pagamenti Shiba Inu e ne vedremo tantissime altre. Quindi notizia super bomba sempre in quest'articolo ragazzi hanno specificato che loro apprezzano molto il progetto di Shiba Inu e tutta la community e soprattutto No Payments ha anche specificato che brucerà il 3% dei suoi profitti provenienti dalle transazioni Shib e Leash quindi tantissima roba. Se volete leggere questi articoli contattatemi tramite Instagram questo qui è il mio account per adesso siamo arrivati a 7000 followers vi ringrazio tantissimo seguitemi lì perché pubblico ogni giorno 24 ore su 24 storie inerenti al mondo cripto sui video che pubblico ed è molto importante ripeto seguirmi. Ah notizia super bomba che non vi ho parlato all'inizio del video volevo dirvelo subito è che Flochi Inu la meme coin è diventata il back sponsor del Napoli quindi tantissima roba vedremo così Flochi Inu accanto a una squadra di calcio molto molto importante e famosa quindi tanta roba per Flochi Inu sicuramente ne vedremo delle belle. Se volete notizie inerenti a Flochi Inu anche fatemelo sapere come al solito nei commenti così posso creare un video specifico in cui vi parlo in generale di questa meme token e quale potrebbe essere il futuro notizia a riguardo eccetera quindi fatemelo sapere come al solito nei commenti e per tornare ad Instagram ripeto seguitemi anche lì perché pubblico spesso storie inerenti al mondo cripto eccetera quindi ragazzi se siete interessati al mondo cripto seguitemi su Instagram mi trovate come Stefano Castillo. Detto questo adesso voglio passare ad un'altra notizia molto importante inerente a V Empire che è un progetto del metaverso che ha bruciato 349 milioni di Shiba Inu e c'è anche la transazione ha fatto questo perché questo progetto è stato listato su Shiba Swap Dex e ha promesso di bruciare il 20% degli Shib e così è stato e ha bruciato ripeto 349 milioni che non sono per niente pochi e possiamo vedere anche la transazione su Etherscan. In questa sezione si vedono i 349 milioni di Shib che sono stati inviati al Dead Wallet che corrispondono a 13.000 dollari ecco qui ragazzi 13.000 dollari adesso sono 13.000 dollari però quando sono stati bruciati il loro valore era di 17.000 dollari quindi tanta tanta roba. Prima di lasciarvi voglio parlarvi anche di Young Platform se siete neofiti in questo mondo e avete bisogno di un exchange per acquistare queste criptovalute Young Platform fa per voi perché è un'azienda italiana io collaboro con loro e soprattutto l'assistenza è super super veloce. Per il Break Friday c'è il 70% di sconto sulle commissioni negli acquisti delle cripto e cosa ancora più importante è stato introdotto Satispay quindi non pagheremo niente per ricaricare il conto e poi acquistare i cripto tanta tanta roba per Young Platform davvero tramite il mio link avete 10 euro di bonus trovate il link qui in basso in descrizione e 15 euro invitando 3 amici solo tramite il mio link quindi se volete iscrivervi se lo fate dal mio mi fate un grandissimo piacere perché mi supportate anche in questo modo. Vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace sempre per supportarmi e se non siete iscritti ragazzi che dovete fare iscrivetevi al canale vorrei arrivare a 10.000 iscritti entro la fine di questo mese quindi spero davvero tanto che mi supportiate in questo modo schiacciando quel pulsante iscriviti. Grazie mille a tutti per la visione noi ci vediamo domani perché è una cripto gemma davvero molto interessante da mostrarvi ciao.